ciao amici e bentornati in epoche medievali la caccia alle streghe folletti e demoni era ormai una routine quotidiana a quell'epoca chiunque venisse accusato di stregoneria veniva ucciso nei video che vedrai oggi ti mostrerò l'apparizione del fantasma di una strega vedrai anche l'apparizione di strane creature mai viste riprese da una telecamera prima di cominciare voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche questo per non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo l'inghilterra è una delle nazioni più famose per i processi alle streghe ci sono alcuni luoghi come boschi e foreste ricche di storia su fantasmi e strani esseri che apparirebbero di notte in questi luoghi uno youtuber si riga in uno di questi boschi e decide di condurre un'indagine ad un certo punto nota su un albero o uno specchio l'uomo rivolgendosi allo specchio ripete per tre volte il nome blodimeri blodimeri blodimeve blodimeve la strana figura di una donna vestita di bianco appare sullo specchio lo youtuber si spaventa ma non si dà per vinto e continua l'indagine lo youtuber non trova nulla di strano ma tornando indietro nota che davanti allo specchio dove era prima c'è una strana donna vestita di bianco la donna ripresa sembra espellere dalla sua bocca qualcosa lo strano spirito si accorge della presenza dell'uomo e incomincia a correre l'incontro lo youtuber si spaventa e corre via lo youtuber si infila nella sua macchina terrorizzato ma proprio mentre sta per mettere in moto l'auto compare di nuovo la donna che incomincia a sputtare sangue sulla macchina dell'uomo lo youtuber decide di fuggire con la sua macchina ma trova un vicolo cieco in un bosco della virginia alcuni esploretoni notturni scoprono una strana creatura vicino al tronco di un albero le immagini sono un po scadenti secondo voi cosa potrebbe essere due ragazzi passeggiano da soli tranquilli in una foresta all'improvviso incominciano a sentire uno strano suono i due non riescono a capire da dove provenga una cosa è certa quello strano suono non appartiene a nessun animale di quel luogo alcuni cacciatori di fantasmi indagano su alcuni fenomeni paranormali successi dentro questa foresta all'inizio non notano nulla di strano finché in mezzo a due tronchi sbuca fuori una strana ragazza vestita di nero la ragazza sembra avere solo un braccio dopo di ciò si volta verso il cameraman puntando la sua mano sinceramente non saprei dirvi se è vero o falso di certo questo tipo di video fa sempre un certo effetto il video finisce qui ragazzi noi come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao